Prova di ante il SDA Warrior Prova di ante il SDA Warrior Vi ho lasciato ascoltare la musica della presentazione perchè quella e la musica che si sente alla fine sono le due parti tecnicamente più importanti Il gioco è molto semplice, però è particolare Il giocatore comanda un missile Infatti questo missile compare a random in basso allo schermo Poi con un pulsante si lancia il missile e dopo il giocatore può muoverlo verso sinistra o verso destra mentre sale E' una cosa strana Ci sono un numero contatto di colpi per ogni livello e lo scopo è avanzare il più possibile Se il gioco vi interessa In descrizione trovate il link Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti.